Mauro Glorioso, lo studente palermitano di 24 anni colpito con una bicicletta lanciata dalla balaustra delle banchine sul Po mentre si trovava in coda per entrare in discoteca a Torino, è tornato nel capoluogo piemontese accolto dagli ex colleghi universitari a Medicina. Adesso Mauro è tetraplegico, costretto a muoversi su una sedia a rotelle, è tornato a vivere nella sua Palermo insieme ai genitori e ha sospeso gli studi universitari. Ad un anno di distanza da una serata che gli ha cambiato radicalmente l'esistenza, il racconto di una breve visita a dicembre in occasione dei festeggiamenti per la fine delle lezioni e per le foto di rito davanti alla facoltà con i suoi ex colleghi, molti dei quali si trovavano al suo fianco, Allemma e Murazzi, nella notte del 21 gennaio. Loro sono ormai pronti a laurearsi e chiudere una prima parte di percorso accademico intrapresa nel 2018. Per quei fatti sono stati condannati tre dei cinque ragazzi coinvolti. I giovani scagliarono una bici elettrica da una balaustra di lungo Poca Dorna a Torino colpendo lo studente palermitano. Il giudice del tribunale per i minori ha inflitto nove anni e sei mesi al più grande, ora maggiorenne ma diciassettenne all'epoca dei fatti, nove anni e quattro mesi al quindicenne, sei anni e otto mesi alla ragazza. Sono accusati di tentato omicidio. Nei mesi scorsi è stata respinta la messa alla prova che era stata chiesta dai difensori che avrebbe consentito di scontare la pena in una comunità applicando uno speciale istituto giuridico riservato agli autori di reato Under 18. Prima della sentenza il fratello del giovane ferito aveva pubblicato un video manifestando il suo timore per la possibilità che i responsabili tornassero liberi prima ancora che lo studente palermitano potesse uscire dall'ospedale.